Buongiorno a tutti. Oggi l'assemblea di metà mandato è un momento importante in FIAI perché si fa il punto della situazione, come il middle term americano. A due anni fa ci sono state delle elezioni, avevamo un programma, avremo due anni da percorrere e quindi questa relazione vuole essere un po' illustrativa di quello che abbiamo fatto ma la ridurrò di molto perché ci sono temi contingenti importantissimi oggi da risolvere che vanno molto probabilmente oltre quelle che sono le ridondanze che a volte anche noi mettiamo nei nostri discorsi quando parliamo in pubblico e parliamo di cose che forse sono meno pratiche di quello che occorrerebbe. Allora vediamo un attimo quello che sono il programma che era quello del 2013 perché vi sono due o tre spunti importanti. Noi ci domandiamo sempre perché, cosa siamo, dove andiamo. È un po' un vizio che ha la categoria di porsi sempre introspettivamente la domanda ma sono un professionista, non sono un professionista. Ve lo dico io cosa siamo, siamo dei professionisti. Chi fa bene questo mestiere qui non può essere che è un professionista se non altro perché negli ultimi anni la legislazione afferente alla nostra categoria è cresciuta in maniera a dismisura. Sapete benissimo quello che comportano gli obblighi anti-riciclaggio, sapete benissimo cosa vuol dire lavorare sulla privacy, sapete benissimo cosa vuol dire verificare ogni giorno prima di fare, riraccogliere, farsi firmare una proposta d'acquisto, ad esempio lo stato dei luoghi e la corrispondenza con le planimetrie catastali. Cioè quello che dobbiamo capire è che se facciamo bene questo mestiere lo siamo già dei professionisti, lasciamo perdere la nostra locazione come ausiliari del commercio. La crescita nostra professionale è lì da venire perché lo dobbiamo dimostrare nei fatti, sapete che le leggi si fanno quando si è creata una consuetudine, quando si è creata un modus nella società e allora lo stato, le leggi ti riconoscono. Bene, non il dovere di dimostrare di essere professionisti e per questo permettetemi di dire, di chiudere questa polemica con l'amministratore delegato di immobiliare.it, ma lo riporto così simpaticamente anche perché a volte ci prendiamo troppo sul serio. Io solitamente non rispondo alle aziende, non rispondo a... ma in questo caso mi sono sentito il dovere di difendere un'intera categoria perché è la dignità della categoria. Giordano può avere detto anche delle cose corrette, le diciamo anche noi, lo vedete lì in fondo, il valore della provvigione in futuro non potrà essere calcolato esclusivamente per la messa in contatto delle parti, lo sappiamo tutti. Abbiamo bisogno di riempire quella provvigione di consulenza, di sapere, di capacità e questo è il servizio che si aspetta la clientela da noi ed è un servizio che non si aspetta solo da noi, si aspetta da tutti i professionisti. Il 2008 ha cambiato il mondo in male per alcuni ma in bene per altri. Cogliamo l'opportunità prima del 2008 al centro del mercato immobiliare c'era l'unità immobiliare. Avevamo le persone che entravano in agenzie immobiliare, compravano quello che c'era, se non comprava un cliente comprava un altro. Oggi il mercato è tornato serio, è tornato un mercato vero, è tornato un mercato dove si deve combattere e si combatte con l'arma del professionismo. Questo è la nostra attività. Allora meno introspezione, più corsi, partecipiamo. Abbiamo una percentuale della categoria che partecipa ai corsi di formazione che è troppo bassa, è troppo bassa. Questo è stato negli anni del boom molte volte anche un mestiere di risulta. Cioè chi non sapeva cosa fare casomai faceva l'agente immobiliare, ve li ricordate no? I cravattoni e le scarpe a punta no? Ecco questa non è la nostra professione. Oggi il mercato ci consegna sicuramente è un impegno anche sociale che la nostra professione deve svolgere. Perché in un momento in cui nello stesso unità immobiliare possiamo vedere, accompagniamo un cliente, possiamo trovare tre prezzi diversi. Perché abbiamo le aste immobiliari, perché abbiamo il cliente che vuole vendere l'unità immobiliare così, pensando di vincere la lotteria e quindi quota fuori mercato. Abbiamo quello che a caso mai invece ha un altro prezzo ancora perché è un imprenditore la cui ultima possibilità è vendere l'unità immobiliare che ha dato in garanzia. Abbiamo un mercato molto difficile e chi può guidare i clienti in una scelta consapevole sui veri valori immobiliari, sui prezzi che ci sono? Lo può fare un Carlo Giordano qualsiasi o lo possiamo fare noi agenti immobiliari? Credo che questa sia la risposta a tanti interrogativi che ci facciamo. Solo che non è consapevole del proprio essere e della propria capacità si pone domande che hanno già una risposta. Allora il tema della professione e dove dobbiamo andare noi come agenzie immobiliari è proprio questo. È quello che deve fare l'associazione, è riuscire a tramutare e a fare il passaggio da ausiliario del commercio a professione intellettuale. Questo lo dobbiamo anche alle future generazioni perché sempre più con l'introduzione, se ne accettava prima, degli standard europei, con tutte le normative che vi sono, sempre più l'agente immobiliare è al centro della filiera. Ormai ce lo riconoscono tutti. Siamo il centro, siamo lo snodo che è lo snodo della distribuzione e come tutti ben sapete la distribuzione è fondamentale. Produzione, distribuzione. Noi siamo quelli che distribuiscono il prodotto. Ma come lo distribuiamo? Anche qui togliamo i falsi miti che ogni tanto sentiamo, confrontiamo il mercato immobiliare italiano con quello americano. In America, in Francia, laddove sono monomandatari, gli agenti immobiliari sono dei venditori. E sia chiaro a tutti. E a nulla valgano le lacrimevoli dichiarazioni di qualche associazione di consumatori o di qualche componente dell'attuale maggioranza che dice ah, ma se l'agente immobiliare prendesse solo da una parte, cioè dal venditore, faremmo risparmiare chi compra. Chi di voi è stato in Francia, chi ha girato un po' il mondo, sa benissimo che la provvigione del monomandatario francese, ad esempio del venditore francese, si aggira tra il 6 e il 7%. Punto. Chi paga questo 6-7%? Il compratore. Perché da sempre i costi di produzione si riverberano su quello che acquista, cioè non abbiamo bisogno di analisi così approfondite. Allora anche qui molte associazioni dei consumatori giocano male, giocano male perché non tutelano il consumatore. Cos'è tutelante invece della nostra professione? Proprio la terzietà, cioè il fatto che l'agente immobiliare deve essere terzo alle parti da codice civile per quello che noi siamo e per quello facciamo nella nostra cultura latina. Noi abbiamo due cose importanti, quello che ci è rimasto molto probabilmente, il diritto latino e qualche immobile che ci ha difeso, come si diceva anche prima, non ci ha fatto fallire. Il patrimonio immobiliare italiano ha garantito per noi nei confronti dell'Europa. Allora io penso che la terzietà dell'agente immobiliare debba essere mantenuta. Chi non è per la terzietà? Coloro che dicono per me è più facile pormi nei confronti del cliente e quindi fare acquisizione nei termini di dire guarda vieni da me non costo nulla. Chi non costa nulla non vale nulla, vi sia chiaro. Allora per sancire queste cose, per dircele chiaramente, avremo poi un dibattito dopo la mia relazione, spero che molti interverranno anche proponendo delle cose. Allora il tema è come fare noi agenti immobiliari a far comprendere alla società, alle istituzioni, qual è il nostro ruolo. Intanto facendo filiera. Noi abbiamo lavorato durante il DDL concorrenza abbastanza seriamente col notariato, con altre figure. Ma perché? Perché anche qui dal 2006 in poi c'è la differenziazione e c'è la volontà chiara di passare le professioni intellettuali e comunque le professioni regolamentate dall'intelletto all'impresa. Basta professionisti, viva l'impresa. È chiaro nel DDL concorrenza quando lo Stato dice facciamo fare i passaggi di proprietà immobiliari e anche agli avvocati fino ai 100 mila euro. È chiaro quando dice l'avvocato, la società di avvocati può essere partecipata dall'impresa. Ed è chiaro che c'è un disegno per eliminare quella classe media che ha sostenuto questo Paese, che gli ha dato lustro, che gli ha dato legalità. Allora se in questo Paese tutto deve diventare impresa, voi capite bene che noi siamo destinati a diventare dipendenti di impresa. Non lo siamo mai stati. Quello che ha sostenuto il nostro Paese è stato proprio la volontà di tante persone di ingegnarsi, di creare, di studiare, di lavorare, di migliorare. Questo siamo noi, questo siamo noi italiani. E allora ecco che entra in campo il discorso europeo. Perché in questi anni, dal 2011 in poi, l'Italia ha subito un attacco anche dalle parti dell'immobiliare? Perché vedete purtroppo, e lo dico col rammarico, tanto discutiamo di politica nel nostro Paese, ma tanto poco, tanto discutiamo qui, ma tanto poco discutiamo di quello che si fa in Europa. I nostri parlamentari europei, questi sconosciuti, non sappiamo le linee che tengono nel nostro, nel rappresentarsi all'estero. Bene, i Paesi del Nord Europa comandano, comandano l'economia, ma vi è una differenziazione. Il Sud dell'Europa ha un tasso di proprietà del 42-43%, il Nord dell'Europa, scusatemi. Il Sud ha un tasso di proprietari dell'80-82%, ma potranno le politiche del Nord essere applicate al Sud? Nel 2011 cosa abbiamo dovuto affrontare? Abbiamo dovuto affrontare una maggioranza della classe politica italiana che sosteneva che l'investimento immobiliare a un investimento improduttivo e che quindi era logico, quelle poche risorse, destinarle a un investimento produttivo. E allora per assimilazione chi non è molto così diceva bene, produzione, fabbrica, imprese, questa roba qua, improduttivo casa, perché casa è ferma. Bene, questo lo diceva l'onorevole Tinagli, lo dicevano quelli del partito di Monti, sostenevano questa cosa che è brutto avere proprietà, che è bello andare in affitto, per l'amor di Dio, nessuno vuole fare il distinguo, ma queste persone non sapevano e non sanno che l'investimento immobiliare fa leva per tre volte sull'investimento che si attua nell'immobiliare. Un miliardo fanno tre miliardi, che attorno all'immobiliare ci sono 18 linee di produzione, c'è quella dei mobili, c'è quella della chimica, lo sa bene il Presidente di Confindustria, cioè la casa non è improduttiva, la casa genera valore continuamente. Allora vedete che come sempre in questo Paese ragioniamo del fatto che c'è la parte per i pochi soldi che abbiamo, li dobbiamo spartire o tra l'industria o tra l'immobiliare. Perché? Perché non c'è un disegno strategico, perché non riusciamo, io vedo con molta tristezza anche i dibattiti televisivi in questi giorni in cui c'è il partito del togliamo la prima casa, la tassa sulla prima casa e eliminiamo la tassa sulla prima casa. Questo è un dibattito in un Paese civile, intanto non ci dovrebbe essere, perché in un Paese civile noi siamo l'unico Paese in cui si vengono applicate le tasse in maniera patrimoniale sulla prima casa. Un bene che non produce reddito non può essere tassato, questo deve essere chiaro a tutti. La prima casa è una tassa patrimoniale. Allora se riuscissimo a ragionare per una volta sul fatto che le imposte vanno pagate sul reddito, allora riusciremmo finalmente ad avere forse un fisco più equo e un fisco più giusto. Perché l'altro problema, e oggi c'è stato, mi sembra, ho letto di sfuggita una sentenza di qualcuno sull'Imu che è stata dichiarata incostituzionale, non dalla Corte Costituzionale, insomma c'è stato qualche accenno sull'Imu, perché l'altro problema che abbiamo è che in questo Paese si fa sempre l'equazione proprietà uguale ricchezza. Noi sappiamo benissimo, perché siamo tutti colleghi o quasi tutti colleghi, che in questi ultimi quattro anni essere proprietari di 5, 6, 7, 10 immobili senza avere il reddito per pagare è sintomo di povertà. Cioè ormai hanno ridotto la proprietà immobiliare, cioè i proprietari immobiliari che non hanno la capacità reddituale, li hanno ridotti a cercare di svendere gli immobili. Oggi un ragazzo, una famiglia che erediti, perché una volta i nostri genitori li potevano comprare gli appartamenti risparmiando, oggi qualcuno che erediti un'unità immobiliare, due o tre, non riesce a pagare le tasse sulla seconda della terza casa e così via. Ma in che Paese siamo? Allora, comprendo le idee europee sul capitale umano, su tutta la filosofia che poi in questo periodo è stata portata avanti dall'Europa, ma vedete ogni Paese ha le sue caratteristiche. Ci diceva Prodi, vi ricordate Prodi quando aprì ai cinesi e noi cosa abbiamo pensato a un certo punto? I cinesi vengono da noi, ma noi possiamo andargli a vendere i nostri prodotti, faremo grandi affari. Bene, non ci siamo accorti che i cinesi sono venuti qui, come hanno fatto a Prato, ci sono anche i colleghi di Prato, hanno comprato Prato, l'hanno distrutta e i pratesi non vendono in Cina, sono i cinesi che vendono in Cina. Allora è chiaro che in un Paese che fa del manufatturiero il suo asse portante, è chiaro che noi una riflessione la dobbiamo fare, perché è bello parlare e mettere su, molti mettono su Facebook tutte le facce di Steve Jobs con tutti, no? Stay angry, stay foolish. Bene, provate a essere stay angry, stay foolish in Italia con un tasso di tassazione, pressione fiscale sull'impresa del 68%, forse state solo stay foolish e anche angry perché la fame sarebbe da imparare, non la fame mentale ma qualcos'altro. Bene, allora questo è un po' il contesto in cui ci muoviamo. La Federazione ha cercato di lavorare in questi anni, possiamo passare tutta la parte di cui regia, tutta la parte del programma, poi vi invierò naturalmente la relazione a tutti quanti. Cosa abbiamo dovuto affrontare dal 2013 ad oggi? Già nel 2011 sapete quello che è accaduto, bene, nel 2013 abbiamo affrontato tante cose. Allora, di cosa abbiamo bisogno, di cosa ha bisogno il mercato? Riforma della 3989, vado molto velocemente. Abbiamo una legge che nei suoi inizi, nei suoi incipiti è sbagliata, perché? Perché abbiamo la formazione che è affidata alle regioni, no? Quindi la formazione è affidata alle regioni, ci sono regioni che fanno 100 ore di formazione, 220 ore, altri 150. Allora mi chiedo, ma quelli che fanno 220 ore, tipo la Lombardia, le 100 ore in più che fanno da un'altra regione, le fanno perché sono particolarmente tonti? Oppure perché forse in quelle regioni dove ci sono solo 120 ore, casomai non fanno il corso di antiriciclaggio e non spiegano determinate cose? Perché qui bisogna che ci poniamo un problema? Allora lì al Ministero abbiamo chiesto di intervenire e di fare un'unica normativa che imponga a livello nazionale un percorso di accesso comune a tutti quanti. Noi abbiamo agenti immobiliari che vanno a fare gli esami, come facevano gli avvocati, come facevano altri, in determinate camere di commercio, perché casomai è più facile l'esame. Siamo alla follia, capite? Abbiamo necessità di formazione continua, una formazione continua biennale, abbiamo una normazione, prego, tieni questo così, puttalo via, formazione continua biennale, perché? Perché la normativa, il proliferare di leggi nel nostro Paese non permette a nessuno di stare tranquillo, abbiamo bisogno di studiare continuamente, di informarci, abbiamo bisogno di rimettere in moto anche una macchina che ci serve assolutamente per portare nuovi giovani all'interno delle nostre agenzie. Allora ecco che facendo il praticantato e riportandolo all'esame abilitativo possiamo creare effettivamente con l'esame finale uguale per tutti anche diversi corsi di accesso e percorsi di accesso alla formazione. Abbiamo bisogno di riformulare le incompatibilità. Io nell'89 non c'ero in FIAE quando è stata fatta la legge e non c'ero neanche nel 2001, cioè c'ero nel 2001 ma non facevo diciamo il dirigente. Nel 2001 che cosa è accaduto? Si è messa l'incompatibilità, chi c'era ha fatto una scommessa e ha detto bene, gli agenti immobiliari sono incompatibili con tutte le attività imprenditoriali. Possono fare solo gli agenti immobiliari, però solo loro possono vendere gli immobili. Praticamente nel 2001 ci hanno dato l'esclusiva del mercato immobiliare italiano. Mi sembra coerente no? Allora cosa succede? Noi questa esclusiva non ce la siamo andati a prendere perché praticamente abbiamo venduto solo il 50-55% del mercato. Il resto lo vedremo dopo e ne parleremo, è abusivismo e sono altri fenomeni. Poi lì sì invece che io vorrei discutere con voi se ci sono gli abusivi perché noi non siamo stati abbastanza bravi o ci sono gli abusivi perché in questo paese è congenito il fatto che ci siano abusivi perché è normale, perché siamo in Italia perché non lo so per quale motivo. Allora togliere queste incompatibilità è necessario perché? Perché l'agente immobiliare dei prossimi 10-15 anni non sarà l'agente immobiliare esclusivamente colui che mette in contatto le parti per una conclusione dell'affare. Sarà colui il quale deve dare servizi aggiunti al cliente. Oggi ad esempio immaginatevi domani mattina vi viene un cliente con la sua bella planimetria cartastale dove ci sono i metri quadri e dice bene io voglio vendere questo appartamento perché qui ci sono i metri quadri. Tu hai un bel da spiegargli che all'interno dell'appartamento non ci sono le parti comuni che poi si ingenera tutta una serie di altre cose però in questo paese siamo così. I giornali hanno detto al mercato trasparente perché ci sono i metri quadri. In una dichiarazione fatta ieri al Sole 24 ore ho detto guardi noi siamo per il mercato trasparente benvengano i metri quadri però attenzione perché l'importante è che si capisca che il cittadino con questi metri quadri non ci fa niente tranne pagare la tassa sui rifiuti e ancora una volta grazie alla tassa sui rifiuti gli enti locali vedranno eventualmente di dare una qualche un qualche giro di vite. Abbiamo bisogno se vogliamo veramente tutelare e la norma deve essere tutelante abbiamo bisogno di uno standard minimo dei servizi. Lo faremo in via volontaria in FIAIB grazie ad alcuni colleghi che ci stanno lavorando. Stiamo cercando una norma volontaria nostra da mettere sul mercato ma in un paese latino, benché il diritto sia quello che a me piace di più, ma in un paese latino è chiaro che se non metti delle norme minime di erogazione di servizio non sta in piedi il sistema. Ma anche perché non sta in piedi il sistema? Perché anche la rappresentanza della federazione degli agenti immobiliari è troppo variegata. E qui tocchiamo un tema di cui vorrei discutere. Molti dicono dobbiamo fare un'unica associazione. Sapete che c'è AMA, che c'è ANAMA, che c'è FIMA. Bene, l'unica associazione la CREI se l'obiettivo è unico. Ma quando io parlo e parliamo con i colleghi del comitato che vengono con me nella commissione che va in consulta, abbiamo una consulta interassociativa. E quando qualcuno considera l'agente immobiliare come impresa, cioè un agente immobiliare per tre agenzie e gli altri tutti abusivi, noi non ci stiamo. Ma non ci potremo mai stare. Perché quella impresa non è la professione, non è la tutela del terzo. E quando abbiamo associazioni di categoria che sono di secondo livello, perché cosa sono? Perché la rappresentanza politico-sindacale è dimandata con commerze e con fesercenti. Allora, tu quando rappresenti più di 50 categorie, ma come fai a metterle tutte d'accordo? Quando ci tolsero ruolo nel 2006, governo Berlusconi, governo Berlusconi, scusate non 2006, ho sbagliato l'anno, governo Berlusconi, ministro Scaiola, scusate quello che era smemorato, allora è inconsapevole peraltro. Che cosa accadde? La sera prima del Consiglio dei Ministri mi telefonò il ministro delle politiche europee e mi disse, caro Presidente, il ruolo è salvo. Lo dico qui ufficialmente, il ruolo è salvo. La vostra conterranea per i toscani, Monica Faenzi, relatrice all'epoca, mi telefonò anche lei la sera prima e mi disse il ruolo è salvo. Perché nella notte fu cambiata idea? Semplicemente perché una telefonata di Confcommercio disse signori, noi rappresentiamo tutti i mediatori creditizi. All'interno della nostra associazione, se salvate solo gli agenti immobiliari, ci viene un casino. E quindi cosa fecero? Fecero la scelta, e visto che Confcommercio è molto più potente di quanto lo siamo noi, fecero la scelta, Scaiola, di assecondare le richieste di Confcommercio. E noi abbiamo perso il ruolo, perché rimanga la storia. Allora, come facciamo noi a consegnare la nostra professionalità a chi non ha rappresentanza diretta, con il pieno rispetto dei colleghi di FIMA che sono peraltro amici? Ma bisogna essere, viva Dio, pragmatici in questo Paese. Facciamoci rappresentare da chi ci può rappresentare. Questo è l'essenza. Poi lo capisco che ci siano gli schemi, le convenienze, ma abbiamo bisogno, abbiamo necessità di rappresentanza. Qualcuno ci dice perché oggi ci sono politici, perché ci sono persone, perché ci... Ragazzi, guardate, solo attraverso la politica questo Paese uscirà dalle secche. L'antipolitica non porta a niente, porta all'anarchia. Che poi la politica attuale non sia una politica all'altezza, lo vediamo anche dalle standard con cui fanno le leggi, proprio dalla costruzione normativa. Questo è palese. Ma con l'antipolitica non si va da nessuna parte. Perché quando io esercito il mio diritto di cittadino, di voto, no? Quella è la democrazia. Mandare i nostri rappresentanti. Poi che noi italiani siamo bravi a mandare dei rappresentanti un po' così così, quello è un altro discorso. Ma guardate, il disimpegno che io noto anche nelle nuove generazioni, nei confronti della politica, quello è il male. I cattivi maestri ci sono stati, ma a noi, lo dicevo all'inizio, a noi associazioni, il dovere sociale, il dovere come parte attiva di questa società di fare associazioni, di portare avanti le nostre idee, le nostre battaglie. Perché se non ci pensiamo noi al futuro dei nostri figli, non ci può pensare un politico qualsiasi. Posto che la buona politica esiste. Esiste a destra, esiste al centro ed esiste a sinistra. Perché come al solito le cose le fanno le persone. I massimi sistemi funzionano, per l'amor di Dio, ma guardiamo alle persone, non guardiamo al colore, all'ideologia, guardiamo alle persone. Allora, dopo la riforma del 39-89, abbiamo lavorato, dov'è che si gira qui? Scusate. Questo, perfetto. Sull'incompatibilità, ve ne ho già parlato, mi avvia la conclusione perché non voglio essere troppo lungo. Parliamo dell'abusivismo. Abbiamo lavorato sull'abusivismo in questi due anni, abbiamo lavorato pesantemente, ne discuteremo dopo, ma nel tema specifico abbiamo, ad esempio, fatto un piccolo capolavoro per chi dice che la politica non conta nulla. In Senato abbiamo modificato la 39-89, togliendo le tre sanzioni amministrative, mettendone una sola, per poi passare al penale. Questo è stato un gioco, è stato un lavoro, che non ha visto contrapposti i partiti, perché in Senato hanno votato tutti favorevolmente a questa norma, con l'unico dato negativo di scelta civica, perché ci ha definito quella degli agenti immobiliari una lobby, vabbè, ognuno pensa come vuole, se noi siamo lobby, chissà gli altri, quelli di cui parleremo dopo cosa sono. Quindi la legge però, come al solito, già c'è in Senato, perché già c'è la Camera, perché deve essere approvata dalla Camera. Ma perché già c'è la Camera? Perché in questo Paese siamo bravi a denunciare, perché quando succede, c'è l'incidente stradale, muore qualcuno, per televisione tutti, oh due morti, allora dobbiamo fare immediatamente la legge per introdurre il reato penale per l'incidente. Se scoppia una caldaia dobbiamo immediatamente fare la legge. Cioè noi, se abbiamo una legislazione per l'emergenza, per quello che è lo status, per quella che è la nostra attività, non ci pensiamo mai. Bene, allora dobbiamo ragionare nell'ottica che la tutela della legalità e la lotta all'abusivismo è proprio quello che farà abbassare in futuro quei famosi dati che ci dicono ogni giorno in televisione sull'evasione. Perché parlano sempre di evasione, parlano sempre di evasione, però poi alla fine chi deve, chi è il grande evasore è quello che ha la partita IVA ed è in chiaro. La lotta all'abusivismo agli evasori totali non la fa nessuno. Allora, su questa cosa è importante. Voi pensate che noi abbiamo fatto l'UNAF, che è l'ufficio nazionale anti-abusivismo FIAI. Ce la siamo inventata, l'abbiamo approvata. 450 segnalazioni. Cosa succede? Mandano le segnalazioni perché io capisco che alcuni colleghi segnalare l'abusivo, l'abusivo eh, di fianco, così via, casomai si rovinano i rapporti. Mi raccontava un amico che denunciava gli evasori, l'ex presidente di Salerno, la presidente regionale, diceva sì, aveva un collega che denunciava sempre gli evasori e gli abusivi. Poi, non so, ha comprato, me lo diceva l'altra volta, nello scorso consiglio, poi ha comprato una macchina e questa macchina ogni tanto era difettosa, gli si bucavano le gomme, si incendiavano e tutte queste cose. Bene, allora per evitare questi effetti firma tutte le denunce il presidente nazionale. Allora abbiamo inoltrato 450 denunce perché ci sono arrivate le segnalazioni. abbiamo avuto qualche risultato, ma anche qui la maggioranza delle camere di commercio non risponde. Ci sono denunce fatte un anno e mezzo fa con le camere di commercio inattive da questo punto di vista, anche se la legge indica che sono loro responsabili. E scriviamo al ministero, scriviamo allora se l'istituzione non funziona, come possiamo, come può l'istituzione pretendere che sia il cittadino a farsi giustizia da sola? Non è possibile. È il padre che educa i figli, non sono i figli che educano i padri, allora le istituzioni facciano la sua parte, si prendono quella parte di responsabilità perché una cosa è cambiata in questo Paese. Tutti pensavano alle cariche e ai posti in maniera autoreferenziale. Ah, sono diventato presidente, ora che sono diventato presidente gli altri lavorano. Sbagliato. Oggi, se vuoi la poltrona, tu sei al servizio di colori quali deve servire. È finito il tempo dell'autoreferenzialità, oggi è il tempo, lo dico ancora, dell'impegno, soprattutto per i dirigenti che sono qui dentro, dobbiamo lavorare il doppio. È finito il tempo dei pasti gratis, non ce ne sono più. Allora, anche sulla battaglia dell'Enasarco, sulla battaglia dell'Enasarco, ancora oggi qualcuno mi dice, ma lasciamo stare, ma l'Enasarco, ma perché dobbiamo fare la battaglia dell'Enasarco? Bene. Se Paolo Righi, 51enne a breve, dovesse essere inserito in Enasarco, pagherebbe tasse per 5, 10, 15 anni. Io le chiamo tasse, non contributi previdenziali. Queste tasse non si possono ricongiungere all'Inps. Quindi, se io non faccio i miei 20 anni, mi dirà poi Gaburro se sbaglio, io quei soldi li ho regalati, e non riesco a concludere quei 20 anni di contribuzione, io quei soldi li ho regalati a Enasarco. È anticostituzionale, è antitutto. Scusatemi, non trovo le parole. Allora, perché FIAI deve consegnare denari sudati dai propri professionisti a Enasarco? Per quale motivo? Perché li possa andare a investire nel fondo antracite alle Caiman? No, signori. Le battaglie si fanno quando sono giuste. E per fortuna molti dirigenti, e il Consiglio nazionale di FIAI, ha sempre appoggiato queste battaglie. È chiaro che sono battaglie contro il mulineamento. È chiaro che il potere e i poteri forti in Italia ci sono. Ma viva Dio, se non combattiamo noi le battaglie giuste, non quelle che pensiamo di vincere, chi le deve combattere? I nostri figli? È nostra la responsabilità. Adesso, ora, non domani. Allora, continuiamo con questa attività. L'antiriciclaggio, chiudo con alcuni flash, anche l'antiriciclaggio, ne discuteremo dopo con il generale Cuzzocrea, ma ci hanno messo addosso una cosa importantissima, l'antiriciclaggio. Benvenga, lo dico sempre. Abbiamo fatto in Calabria, vi ricordate, FIAI per la legalità contro il riciclaggio. Abbiamo fatto tutta una serie di attività, ma la tipologia delle agenzie immobiliari italiane fatti di piccole imprese, piccole, piccoli, no? Professionisti. Che cos'hanno? Abbiamo 1.9, ce lo dirà poi il nostro presidente del centro studi, Marie Kondo, domani in un'indagine. Abbiamo 1.9 addetti per ufficio, ok? Allora, l'antiriciclaggio che comporta tutta una serie di attività giustissime, ripeto, e che ha al suo albori la nascita della legge, proprio il fatto che più persone registrino su quello stesso affare, in modo da mettere in contraposizione quelle che sono le possibili storture e aggiramenti della legge. Allora noi abbiamo chiesto una cosa molto semplice e l'abbiamo chiesto anche 7-8 mesi fa. Unica associazione italiana audita dall'Ocse che farà fra 5 mesi presenterà un'indagine sul riciclaggio, la lotta al riciclaggio in Italia. Abbiamo chiesto una cosa sola. Ma perché un'istituzione qualsiasi, che ne so, Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, quello che volete, non ci fa un bel registro online in cui noi inseriamo i dati e poi, siccome tutto oggi è schedulato, e poi gli indici delle anomalie se li va a controllare da soli? Cioè questa è una proposta sensata. Non possiamo chiedere l'abolizione della lotta al riciclaggio, saremo dei folli come qualcuno chiede, ma facciamola, facciamo partecipare la persona. Una legge è giusta quando viene applicata, quando è facile applicarla. Se è una legge, è di difficile applicazione. È una legge che non serve a nulla. Allora, anche su questi temi è importante la collaborazione di tutte le associazioni e noi speriamo che FIM e ANAMA giungano finalmente, si liberino, si liberino dei retaggi e della guida di altre associazioni che diventino veramente, come noi, una rappresentanza libera degli agenti immobiliari per tutelare questa cosa, perché sull'antiriciclaggio vinciamo insieme o non vinciamo. L'attestato di prestazione energetica è stata un'altra cosa tremenda, vi ricordate l'anno scorso, no? Per sei mesi tutti gli atti in Italia sono stati nulli. Avevamo, non avevamo la prestazione, poi notai, vedo De Farco che sorridi, notai che ha detto no no ragazzi state tranquilli, si può risolvere, non si può risolvere, cioè noi abbiamo avuto un paese che fa una legge che rende nulli sei mesi di trasferimenti immobiliari, neanche in Congo belga una roba del genere, poi è arrivata la sanatoria, poi è arrivato tutto quello che doveva arrivare. Ma questo non è un paese normale, non è un paese in cui si possano fare affari e non è un paese che ha visto l'attestato di prestazione energetica, e ne discutevamo sempre con il presidente Condode Satriano e quelli dell'Enea, cogliere al volo l'occasione. Abbiamo un paese, un patrimonio immobiliare vetusto, ormai vecchio, che nessuno gestisce più. L'attestato di prestazione energetica era l'occasione, insieme ai vari sgravi che verranno riconfermati in questa legge di stabilità per rinnovare il parco delle nostre attività. Ma che cosa è successo? Che naturalmente la legge è stata fatta per chi? Per gli agenti immobiliari. Per loro il sistema è se tu pubblichi un annuncio da qualsiasi parte e sei agente immobiliare senza il loghetto qui e là, da 1.000 a 5.000 euro di multa. La Lombardia l'unica che le fa perché l'avete applicato, il Lombard, noi siamo un po' più arretrati, in questo caso felici di esserlo, però vedete che ancora una volta la normativa non favorisce il fatto che l'agente immobiliare possa informare il cittadino, possa essere lui portatore di una nuova cultura tra coloro che comprano casa. No! Cosa dobbiamo dire al cliente? Non le posso pubblicare l'annuncio se non si fa il nuovo attestato di prestazione energetica. Ma stiamo scherzando? E questa è la cultura che noi vogliamo insegnare. La norma doveva essere un'altra e doveva essere la norma che portava gli agenti immobiliari a farsi parte attiva. I trasferimenti, l'APE doveva essere consegnato al momento del preliminare perché l'altro problema serio è che abbiamo gente che non ha i soldi per farsi il nuovo APE che oggi non costerà più 20-30 euro, quelle erano truffe. Oggi quello vero costerà dai 300 ai 450 euro. C'è gente che non ha i soldi e rischia la multa perché sapete che ci sono 3 milioni di persone in Italia che non riescono a pagare rate, che non riescono a pagare mutui che sono indietro con i pagamenti. Con gran dolore delle banche in questo momento mi dispiace. Ecco anche lì che le nuove normative devono accompagnare, noi stiamo chiedendo delle modifiche all'attestato di prestazione energetica, non nel suo contenuto ma per tutta la parte che può essere quella di mediazione creditizia. Allora anche qui noi abbiamo lavorato tanto sulla mia via la conclusione ragazzi vedo che siete stanco ma sono stanco anch'io ma vi devo dire delle cose. La mediazione creditizia. Noi siamo stati accusati in passato da qualche gufo, lo dico anch'io, di aver fatto che cosa? Di aver favorito l'eliminazione della legge per la segnalazione strumentale per i mutui e perché dovevamo fare ausilia. Pensate voi no? Cioè noi che abbiamo fatto gli unici a fare battaglie proprio per mantenere la strumentalità della segnalazione e se ritornasse questa cosa Samuele ce ne sarebbe davvero tanto grati insieme a qualche milione di persone. Allora che cosa accade? Nel recepimento della direttiva 2014 abbiamo un'attività che stiamo svolgendo perché c'è qualche furbone che vuole aprire la segnalazione a tutti. No? Cioè quindi ritorna la segnalazione ma non la segnalazione strumentale. La segnalazione to court. Cioè allora io facevo un esempio con una personalità di cui non faccio il nome no? E diciamo facciamo un esempio politico diciamo facciamo un esempio e entra la segnalazione to court. Cioè tutti quanti possiamo segnalare a un intermediario o a o a una società di mediazione creditizia la segnalazione. Allora cosa succede? In un paesino come Carpi mettiamo che ci sia un boss del quartiere che dice sapete cosa c'è signori? Adesso prima di andare in banca a fare un prestito passate tutti da me perché io faccio la segnalazione poi andate in banca. Vi sembra plausibile questo esempio? A me sì tanto. E può succedere non solo al sud ma anche al nord perché abbiamo visto che cosa si è spostato. Allora vogliamo fare la lotta al riciclaggio, vogliamo la legalità e poi segnalazione per tutti. È una follia. Lavoreremo per fare che cosa? Per ripristinare il fatto che alcune professioni possano segnalare strumentalmente alla propria attività, alla banca, al mediatore e allora essere pagati per quello che fanno e però non andare contro la 141 perché il sunto della 141 è uno solo. Il cliente è tutelato dall'inizio alla fine e gli organismi devono sapere chi ha fatto indebitare il cliente. Questo è il punto. Allora vedete che la segnalazione distrugge la 141 ma distrugge anche il mercato della legalità se viene ricepita in questo modo. Allora io capisco poi che qualcuno sia interessato a lavorare per ritornare ai vecchi tempi, no? Ante 2008. Però la finanza, anche il mondo della finanza ragazzi è cambiato. La cartolerizzazione, la finanziarizzazione del mercato immobiliare avvenuto in America ha distrutto il mondo. Allora l'eccessiva finanziarizzazione è vero che fa leva, la finanza è utilissima, non date mai contro la finanza, non date contro le banche, non a tutte le banche, a qualche banca sì, ma il tema è la finanza ci è utile perché senza finanza, senza banche il mondo non vive. Le banche sono necessarie, la finanza è necessaria ma quando si esagera, quando si perde il sottostante, quando i titoli come nel 2008 non avevano più un dato stabile sotto, un appoggio, quella è carta, è ancora oggi è carta. Allora cerchiamo anche noi di non impegnarci troppo nel dare troppe colpe alle banche che prima non finanziavano, oggi finanziano, poi gli diamo la colpa che nel 2008 hanno dato troppo i soldi, oggi gli diamo colpa che non ne danno. Le banche fanno quello che possono anche loro in un contesto veramente difficile e allora dobbiamo ragionare sempre nell'ottica di cercare di non prendere troppo le parti da una parte, di essere da una parte o dall'altra, ma semplicemente di ragionare con la nostra testa e essere pragmatici. Il disegno di legge della concorrenza su cui abbiamo lavorato e come hanno lavorato i notai, deposito prezzo al notaio, beh guardate il deposito prezzo è legge, se fosse passato il deposito prezzo così come era stato poi disegnato, com'è nella legge, il mercato immobiliare io non so dove sarebbe andato, molte compravendite sono vendo l'usato e poi compro l'appartamento nuovo, le vendite a catena. Con il deposito prezzo al notaio noi veramente avremmo ingessato un mercato immobiliare senza ben sapere dove saremmo andati a parare, con un aumento dei costi notarili, un aumento dei costi di agenzie immobiliari, cioè questa norma non ha fatto bene a nessuno. Io sapete che ho inoltrato le mie proteste al Presidente del notariato all'epoca e al Vicepresidente perché una norma proposta da loro in cui si è fatto modo doveva secondo me essere condivisa con tutta la filiera dell'immobiliare. Secondo me quando tu fai proposte che coinvolgono tutte le realtà dell'immobiliare le associazioni hanno il dovere di condividerle prima in una rete, nessuno può essere al di sopra delle altre associazioni, bisogna ragionare in quest'ottica qua anche in futuro. Vi ho già detto delle società di capitali, vi ho già detto dei trasferimenti immobiliari, vi dico quello che riguarda quello che a mio parere è il discorso sulle banche, anche qui io non andrei molto oltre sulle banche, non ne vorrei fare un'arena oggi, casomai la facciamo domani. Cosa mi interessa dire? Qualcuno ci accusa, era una battuta naturalmente, qualcuno ci accusa di non volere la concorrenza. Io l'altra sera ho sentito Pepetti, ho sentito per televisione, ho sentito Adiconsumo, ho sentito vari, dicono ma le banche che fanno agenzie immobiliari abbasseranno i prezzi, posto che non mi risulta... c'è più concorrenza più mercato. Allora mettiamoci d'accordo su che cos'è concorrenza, perché se ci mettiamo d'accordo cosa vuol dire concorrere allora forse possiamo fare un discorso comune. Se io peso, lo vedete tutti, circa 80 chili, 78, e mi metto a correre con la signora lì davanti che ne peserà 45, o con un signore che ne pesa 45, molto probabilmente io arriverò dopo. Se ho 51 anni e corro con qualcuno... concorrenza è concorrere alla pari, no? Quindi partiamo tutti dallo stesso blocco di partenza, ognuno con le proprie caratteristiche, ma facciamo sta roba qua. Allora io mi chiedo, ma Unicredit è intesa, chi appoggia queste cose? Ma come fa a pensare che ci sia concorrenza quando io, banca, posso dire al mio cliente, vieni qui un attimo, mi devi 150 mila euro, guarda non riesco a tenere fermo l'ufficio legale, fammi un piacere, vai nella mia agenzia immobiliare, fai l'esclusiva, il prezzo lo decidono loro e poi torni qui e io ti fermo le pratiche. Questo secondo voi è plausibile che succeda o sono io che me lo sono sognato. Allora questo non è un fatto concorrenziale, cioè la concorrenza è un'altra roba. Io non ho a disposizione i dati sensibili di ognuno di voi, io non posso vedere se voi eventualmente potete andare o no in default. Io ho agente immobiliare, accolgo il cliente e dico bene, lei cosa deve fare? Devo vendere, bene, ragioniamone e valuti l'appartamento, non valuti l'appartamento e l'eventuale grado di insolvenza del cliente. Ma questa è una cosa seria, allora io mi chiedo, ma queste associazioni di consumatori in Italia, ma chi cavolo difendono? Perché voglio dire, io lo capisco allora, la concorrenza è concorrenza se si combatte ad armi pari. Noi professionisti italiani non abbiamo paura della concorrenza, non ci fanno paura le agenzie immobiliari, delle banche, dell'Enel, ma a patto che usiamo tutti gli stessi strumenti. Perché è un po' come la storia di Uber, no? Io sono per Uber, che bello Uber, tac, schiaccio, pim, pum, pam, pago, con cosa? Con tanti no, tolgono i soldi dal conto corrente. Dove vanno i soldi? Pagano le tasse in Italia? Ma forse no. Quel povero taxista infimo che è retrogrado, che è antico, che è contro la concorrenza, però deve pagare la licenza, se ha le gomme di un millimetro sotto gli fanno la multa, deve rispettare i turni, c'ha una pressione fiscale. Brutto il taxista italiano, brutto. Bello Uber. Bello Uber. Ma chi paga le tasse è il taxista italiano. Allora basta con queste idee mondiali bellissime, poi non trovano applicazione nella realtà. Dite a Uber che venga a fare il suo sistema in Italia, io sarò un cliente di Uber, ma che paghi le tasse dove le paghiamo noi. Questo è il punto. Scusate la divagazione. Allora, ricordatevi, e poi mi fermo qui perché due anni di lavoro, dovrei parlare altre tre ore, divento come Fidel Castro. Il tema vero qual è? È che noi, professionisti, dobbiamo fare delle battaglie, non tanto contro le banche. sono qui, le banche sono necessarie, li vogliamo bene, sono quelle che ci danno respiro al mercato, che finanziano le imprese, che rischiano con noi, che tante volte con cui facciamo le stesse battaglie. Questo è il tema. Ma il problema è diverso. È che in questo Paese tutti vogliono fare il mestiere degli altri. Io vi dico, cara Unicredit, cara Intesa, fate bene il vostro mestiere, ma fatelo bene, non venite a fare il nostro. Questo è il tema. Se chi fa le leggi facesse bene le leggi, adesso non voglio fare tutta la lista, ma questo è il grande tema. È il tema della professionalità in tutte le cose. Questo è un Paese dove non paga essere professionisti, perché arriva sempre uno più furbo di te, e ce lo dirà bene Impolito successivamente, dove arriva sempre uno più furbo di te che ti fa le scarpe. E tu sei lì che ti leggi i manuali e quello ti ha fregato. Basta col Paese dei furbetti. Basta. E allora io vi dico, cari colleghi, io penso che vi lascio perdere gli studi di settore, il post, tutto quello che abbiamo fatto sulla riforma del catastro. Voglio ringraziare pubblicamente, arriverà poi il presidente di Confedilizia, qui ha avuto ritardo. Voglio ringraziarvi tutti. Quel famoso, quel coordinamento interassociativo dove 122 persone in Italia sono state coinvolte, messe all'interno del coordinamento interassociativo. Quei 22 che hanno fatto i presidenti del coordinamento delle 15 professioni, le 15 associazioni che erano dentro. Sono servite. Molti mi chiedevano cosa serve? Gli dicevo stai lì, è una roba politica. La riforma del catastro è finita. Ne riparleremo fra dieci anni. Avete lavorato inutilmente? No. Perché quella era l'ennesima mossa per innalzare le tasse in Italia? Perché la riforma del catastro, seppur giusta per quanto riguarda i metri quadri, seppur giusta per un allineamento dei beni, era l'unica volontà di farle in fretta. Perché? Perché non sapevano più come aumentare le tasse sulla casa. Quindi grazie al Premier Rienzi che ha avuto il coraggio per una volta in questo Paese di fare una norma, di bloccarla perché ha evitato un altro collasso del nostro sistema immobiliare. Quindi la riforma del catastro ne riparleremo dopo e molto probabilmente ne riparleremo più avanti quando? Quando in questo Paese si smetterà di guardare la proprietà immobiliare in maniera ideologica. Lo dicevo prima. L'ideologia non aiuta a fare affari e i proprietari di casa non sono forzatamente ricchi. Patrimonio non vuol dire reddito. L'ho già detto prima. Quindi anche qui speriamo che nel rinnovamento della politica si venga fuori da determinati schemi. Vi lascio poi, vi manderò tutte le audizioni che abbiamo fatte, tutte le attività, i documenti che abbiamo prodotto, tutte queste cose. Vi segnalo solo una cosa, una buona notizia. Abbiamo parlato nell'ultima audizione della Commissione Finanza, abbiamo inoltrato la nostra proposta, ad esempio sull'affitto, che è il contratto d'affitto di 20 titolo esecutivo. Per la prima volta, dopo otto anni, forse perché ormai li ho riempiti di parole, anche il PD in audizione ha detto che si è trovato favorevole a far diventare il contratto d'affitto titolo esecutivo. Questo cosa farebbe? Toglierebbe un'udienza sugli sfratti e quant'altro. È stato depositato il nostro emendamento alla legge di stabilità, quello che prevede per il discorso delle permute. Quindi io, costruttore, prendo in permute un appartamento, se verrà approvato. Noi speriamo che il Governo lo approvi. È stato presentato dall'opposizione, ma molto probabilmente anche la maggioranza potrà assumerlo in questo caso. Il costruttore prende in permuta all'unità immobiliare, non paga tasse d'acquisto, non paga IMU, non paga nulla per tre, quattro anni, scusate, per cinque anni nell'emendamento. Poi cosa succede? Ha l'obbligo di efficientarlo alla classe più alta ottenibile e poi rimetterlo sul mercato. Allora così si crea volano, perché oggi i costruttori non hanno più i soldi. Se vendono un appartamento, ringraziano, corrono in banca e gli portano i soldi. Non hanno bisogno di prendere e di ritirare delle unità immobiliari. Ora questa è una proposta che ha fatto la FIAI, ma che ha lavorato anche all'epoca con il Presidente dell'Ance e con Confedilizia. Riteniamo che sia una norma che potrà fare bene a tutti. Quindi vi manderò poi queste relazioni. Vi dico solo come abbiamo comunicato insieme a tutto il comitato esecutivo, insieme ad altri. Siamo un'associazione che si dice quando la gente non va d'accordo, quando dice c'è un problema di comunicazione. Ci avete notato? Non so se succede anche in asso immobiliare. No, ma dobbiamo cambiare la comunicazione. No, ma io non lo sapevo. Io dico sempre, se lo vuoi sapere, leggi, informati. No, cioè non è che è bene. Dall'elezione abbiamo fatto 142 relazioni sull'attività politico-sindacale. Abbiamo fatto praticamente più di una relazione a settimana tra Consiglio nazionale e associati. Agli associati naturalmente molto bene. Cosa vuol dire? Molto meno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un legame stretto tra la Presidenza e il Consiglio nazionale. Vuol dire che la relazione sull'attività, perché se uno sulla relazione sull'attività vuol dire che ha fatto qualcosa. Allora non so se l'abbiamo fatto bene o male, ma qualcosa l'abbiamo fatto di certo. Allora questa comunicazione, questa fase comunicazionale deve arrivare agli associati. Perché gli associati continuamente si chiedono cosa fa l'associazione. Poi molte volte gli associati lo chiedono in un rapporto che molto, lo sapete anche voi, sembra rapporto fornitore-cliente. Io ti pago l'associazione e tu cosa mi dai? Bene, se si informassero molto probabilmente saprebbero che la federazione fa tanto. Fa tanto per aiutare la categoria, fa tanto per poter elevare il livello sociale degli esenti immobiliari, fa tanto per la nostra società e per il settore immobiliare. Allora vi dico, visto che io poi sono all'ultimo mandato e questa è la mia ultima assemblea pubblica da Presidente, fra due anni o ancora due anni di Presidente, vi lascio anche con, se volete, un'indicazione. Guardate, io penso che il mondo sia cambiato. Io penso che c'è bisogno veramente, ve lo dicevo prima, di un rinnovato impegno e c'è bisogno di fare squadra. Se vedete anche dietro nello stand di BNL, ma sentirete parlare tutti, no? Condividere, fare rete, costruire. Oggi da soli non si va da nessuna parte, ma per andare avanti bisogna rinnovare. Io vedo troppi dirigenti da tanti anni e Dio li ha merito, sono tanti amici, sono tanti colleghi a cui voglio bene, ma se non rinnoviamo, se anche le nuove generazioni non si mettono in prima persona a perdere del tempo, a fare associazionismo vero e non su Facebook o su Twitter, perché lì non si fa politica, ok? Lì si chiacchiericcia. Allora, se anche le nostre nuove generazioni, noi sapremo trasmettere ai nostri, ci sono anch'io su Facebook, però se sapremo trasmettere questo valore, il valore dell'associazionismo, il valore dello stare insieme, di costruire qualcosa di vero per noi e per le nostre famiglie, allora questa federazione, la mia presidenza e i periodi passati con i colleghi avrà avuto un senso, cioè trasmettere quello che abbiamo lavorato fino adesso, le fatiche e tutte le cose che abbiamo costruito insieme, trasmetterle e passare la mano. Purtroppo qualcuno, come nei vecchi tempi, è ancora attaccato alla poltrona, ma sono sicuro che in futuro, in questi due anni, qualche sedia, casomai qualche seggiolino lo seguiamo. D'accordo? Grazie ragazzi, buon lavoro.